Ok, allora siamo ancora 16 settembre 2012 di mattina, allora siamo a secondo Vico Marino di San Giovanni, alla sinistra c'è Pietrazza e come potete guardare c'è questo tubo che va a scaricare a mare lungo dall'altra parte. Vediamo se sulla sinistra vediamo Pietrazza e poi riprendiamo l'altro tubo che sta qua sotto, quindi il tubo praticamente che va di là. Esattamente dove sta il tubo? Scusami, l'altro tubo dove sta qua? Proprio qua, eccolo là, eccolo là, là 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 là, si vedi questo tubo lungo che scarica, vedi? Ok, va bene così, stacca.